Nel 2015 eravamo al 103esimo posto su 104 capoluoghi di provincia italiani, cioè eravamo penultimi. Oggi la risalita ci dice questo, che Agrigento è al 59esimo posto, abbiamo risalito piano piano 44 posizioni. Questo è stato possibile per tante cose e tra queste certamente l'avvio della differenziata, oltre a una complessità di interventi che si è potuto realizzare. Adesso finalmente possiamo dirci che non siamo penultimi e non siamo più gli ultimi. Siamo al centro classifica e tante città del profondo nord sono dietro di noi. E la cosa fondamentale che io dico è che noi andremo certamente avanti perché per esempio il dato della differenziata che è intorno al 60% è un dato ormai superato. Noi siamo ben oltre il 70%, quindi è verosimile che il prossimo anno Agrigento scalerà ulteriormente la classifica. E quindi finalmente dopo tante volte che ci diciamo cose negative su di noi, finalmente qualche buona notizia su qualcosa di positivo. Agrigento poi è uno dei dati che salta io, che certamente oltre il buon dato della differenziata è il dato che Agrigento è tra le prime dieci città italiane per alberi piantati, per piantumazione di alberi. Quindi questo è un altro buon dato, altro dato evidentemente, ma quello fa parte del contesto, è una serie di qualità di elementi ambientali che fanno in modo che Agrigento sia in quel posto lì, che è il posto che obiettivamente merita. Grazie. Grazie. Grazie.